I carabinieri della compagnia di Catania Piazza Dante hanno dato esecuzione ad un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP Etneo su richiesta della locale Procura della Repubblica nei confronti di un 27enne catanese indagato per i reati di pornografia minorile, prostituzione minorile, atti persecutori ed estorsione. L'indagine dei carabinieri parte dall'ispezione del cellulare dell'indagato dopo la denuncia di una violenza sessuale subita nel 2017 da una ragazza di 16 anni. In questo modo i carabinieri hanno compreso che anche altri minorenni di età compresa fra i 13 e i 16 anni erano vittime di un modus operandi ormai consolidato da parte di questo giovane. In particolare l'indagato adescava queste giovanissime ragazze sui social network per poi corteggiarle a lungo con insistenti chat e videocamate e una volta acquisita la loro fiducia le costringeva a trasmettergli materiale a sfondo sessuale in particolare foto e video promettendo loro l'acquisto di costose borse o cellulari. Addirittura era riuscito a convincere una delle minorenni a compiere atti sessuali con uno sconosciuto e a trasmettergli gli audio di questo rapporto.